bentornati sul mio canale youtube oggi per un nuovo tutorial su blender sto usando la versione 3.2 dove vi farò vedere come dipingere con la nuova funzione del pennello e sculpting una mesh e fare il bake della texture in questo caso per oggi ho fatto susanna ho dipinto su di lei in modo particolare salvato la texture vi farò vedere come procedere quindi godetevi il video nel prossimo timelapse che segue buona visione e al prossimo video su blender ciao 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 ciao